Sì, ecco, sono qui, continua pure il discorso che ha intero. Allora, Gesù non è stato capito. Io comunque, Alessandro, io la mattina, subito dopo, Gesù l'ho sentito e ho sentito anche la Madonna. Cosa mi puoi dire? Ho preso un abbaglio oppure no? Certo, Franco. Non ha finito, fallo parlare. Continua, continua, perché ancora non ho mai dato la risposta se sì o no. Ha detto certo Franco, però è... E' molto difficile rispondere a entrare e trovare... Si deve sempre vedere il caso concreto, Franco. Sì. Do testimonianza il messaggio del Vangelo, da l'occasione per entrare in dialogo. Cerco così di assumere ciò che è stato detto. Ci sono anche esistenti diversi organismi che ricercano di servire l'umanità. Molte persone sono... Dovrebbero essere più umani. Hai capito? Ti ringrazio, comunque poi sentirò... Perché io, tutto quello che mi dici, Alessandro, lo metto... Cerco di metterlo in pratica proprio alla lettera, eh. Vi seguo in tutto e per tutto, per la mia crescita spirituale. Hai sentito che ha detto? Ci sono già degli organismi che circolano, capito? Ah, allora mi ha dato la risposta. Mi ha dato la risposta, ma quanto bene vuoi a Franco tuo? Se me la puoi dare, eh, questa risposta. Ma quanto bene vuoi a Franco tuo? Lavori, lavori. Lui che è già impegnato in questa strada e lui può dire questo, perché lui è già... Quindi guarda, questo impegno è un po' a quelli che soffrono. In parte, tre R, recognition, re-examination and response. Ma, Rodrigo, ha parlato in inglese? Le tre R. Le tre R. Ha parlato in inglese, ha sentito? Sì, sì, poi si truffano. Questo che io volevo sentirlo, parlato in inglese, interessava tanto. Grazie, ha già riparlato in inglese, ha sentito? Sì, è stato straordinario, hai parlato tante risposte. Dopo le commentiamo. Sì, sì. Facciamo andare avanti. C'è ancora spazio per una tavola rotonda, il terzo millennio. C'è ancora spazio per una tavola rotonda.